Signore e signori, buonasera! Con il numero 7, del tempo, con il numero 8, Genico, con il numero 10, Vatti, con il numero 13, Stombole, con il numero 14, Sceglie, con il numero 15, Sardone, con il numero 16, De Pertes, con il numero 18, Napoletana, con il numero 19, Ricci, con il numero 20, Milana, Gordo, Spoglio. Piste, A.S.M.G. Armero, il tempo, con il numero 17, Maglia Arrotti, con il numero 8, un grosso applauso per il tempo, Paolo Molletti, con il numero 12, Ricci, 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 Ricci Ricci, 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 Ric Grazie a tutti 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 Grazie a tutti